Come colorare gli elastici bianchi Iniziamo, vi servirà una cipra o comunque un ombretto colorato, io utilizzo questa della Pioschina perché voglio un color pelle Un pennello e ovviamente una base su cui applicare il prodotto Inizio col prelevare del prodotto, poco prodotto ovviamente, con il mio pennello In questo modo, come potete vedere Ora vado a picchiettarci il prodotto col mio pennello appunto sopra Poi vado a sfumare Prelevo altro prodotto e picchietto Nuovamente sfumo Faccio la stessa cosa dietro, prelevando appunto del prodotto, picchiettandolo e poi sfumandolo Lo faccio sia dietro che lateralmente E' una tecnica abbastanza duratura, nel senso che il prodotto, quindi la cipra, si fissa abbastanza bene Sicuramente non vi durerà tutta la vita quanto durano appunto gli elastici del colore che voi desiderate Perciò se li comprate proprio di quel colore vi dureranno di più ovviamente Però, insomma, se non ce li avete o vi sono finiti o non vi va di acquistarli tramite internet E' la tecnica migliore Quindi, niente, spero il video vi sia piaciuto Vi assicuro dura abbastanza Io vi saluto e vi mando un bacione Ciao!